Non si placano le polemiche sul progetto della società Gammesa Energia Italia SPA che intende realizzare un impianto eulico in agro di Orani e Nuoro. Nei territori coinvolti sta montando la protesta contro un'iniziativa che andrebbe a solgere in una zona di pregio sotto il profilo ambientale, paesaggistico e archeologico. Ieri i rappresentanti della società Gammesa e i funzionari dell'assessorato regionale all'ambiente hanno incontrato a Orani amministratori e cittadini per illustrare il progetto che prevede la realizzazione di 9 aerogeneratori, 7 in territori di Orani, 2 in quelli di Nuoro. La potenza nominale è di 2 megawatt, mentre ogni rottore ha un'altezza di 93 metri. Il diametro delle pale invece sarebbe di 114 metri. A Nuoro, nei giorni scorsi, il capogruppo della Federazione della Sinistra in Consiglio Comunale, Antonio Pirisi, ha presentato un'interrogazione al sindaco. Sulla vicenda oggi prende posizione il fronte indipendentista Unidu. In una nota si legge che in una terra già sfruttata energeticamente, sino allo stremo, ci troviamo a combattere l'ennesimo atto di colonizzazione. A Sardegna, che produce l'11% di energia elettrica più di quanta ne consumi, ma la paga il 40% in più della media italiana, secondo i politici regionali deve essere ancora sfruttata e asservita alle multinazionali di turno per produrre altra energia. Il nostro obiettivo, invece, sottolinea il fronte indipendentista Unidu, è quello di favorire la nascita di un'industria compatibile con le nostre risorse e con i territori e crediamo che sia opportuno realizzare una vera democrazia energetica fatta di piccoli produttori di energia e non di grandi multinazionali che spropriano le terre dei pastori e degli agricoltori per arricchirsi con le risorse dei sardi. Ribadiamo, conclude la nota, la necessità di adottare la nostra richiesta di moratoria per tutte le nuove costruzioni di impianti eolici, fotovoltaici, a biomasse e termodinamici e chiediamo che la Regione elabori una rigorosa valutazione dell'impatto socio-economico sui territori per ogni progetto presentato.